Nel tempo di Dante, iniziata la settima edizione del Festival del Medioevo, pronta a caratterizzare Gubbio fino a domenica con convegni, dibattiti, spettacoli, presentazioni per un evento di caratura internazionale promosso dall'Associazione Festival del Medioevo, in stretta collaborazione con il Comune di Gubbio, un'edizione legata a doppio filo alla figura di Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario dalla morte celebrata in tutta Italia. È lo start dell'edizione 2021 nell'attenza struttura di Piazzale Frondizi, dopo i saluti del sindaco Filippo Stirati e dell'ideatore del Festival Federico Fioravanti, ha visto un folto pubblico assistere all'Alexio Magistralis del professor Franco Cardini sull'eternità del sommo poeta. Perché Dante è eterno? Perché a tutte le generazioni, da quando le generazioni hanno cominciato ad ascoltarlo, evidentemente Dante ha qualche cosa da dire anche al ventunesimo secolo. Nell'ottocento si è detto che era il padre della lingua, che era il padre della patria, che era il padre dell'umanità, che era il padre di un sacco di cose. Oggi noi ci chiediamo se piuttosto invece le sue profezie erano non profezie belle e positive, ma profezie ammonitrici di un futuro che potrebbe essere anche molto difficile. Il canto di Dante, noi oggi lo leggiamo con tutti altri occhi perché quest'ansia di libertà, quest'ansia di conoscenza porta Ulisse al naufragio. E allora noi ci chiediamo chi aveva ragione? Coloro che leggevano il canto di Ulisse in una chiave di assoluto ottimismo conquistatore o coloro che come oggi lo leggono con preoccupazione e quasi con un certo senso di disagio, se no con paura, come vedete, da Dante c'è sempre da imparare. Nell'attenso struttura, con le sessioni già sold out da giorni, trovano posto 200 persone, altre possono assistere contenuti dalle sale interne dell'adiacente complesso Santo Spirito. Il pieno terra del centro servizi ospita la Fiera del Libro Medievale, il porticato che affaccia su Piazzale Frondizi ospita i mestieri medievali, mentre al convento di San Francesco c'è l'approfondimento sui cavalieri templari e poi tantissimi altri eventi collaterali come laboratori per bambini, visite guidate, botteghe d'arte, tutto in salsa medievale e tanto altro ancora per un'edizione che si preannuncia memorabile sin dall'incipit. È il settimo anno, lo diciamo con una battuta, non abbiamo la crisi del settimo anno, anzi forse questa è l'edizione che ancora prima di iniziare già tutti i posti sono esauriti, lo dico alla televisione di Gubbio, mi fa piacere dirlo, il festival, poi non lo diciamo noi, lo dice il centro turismo di Firenze e altri istituti, per la città di Gubbio rappresenta anche una grande leva per l'economia turistica del territorio e vale all'incirca 10 milioni di euro come indotto, quindi siamo molto contenti anche per questo. Per 365 giorni si parla di Gubbio anche, quindi si parla di questa manifestazione che è diventata nel giro appunto di 7 anni la più importante per la divulgazione della storia in Italia. lo diciamo con un po' di imbarazzo perché non pensavamo di avere questo successo, però abbiamo dei patrocini scientifici prestigiosi, solo alcuni, l'Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri, l'Enciclopedia Treccani, il Pontificio Consiglio della Cultura, quindi siamo molto contenti.